Napoli. L'attaccante del Napoli Victor Osimena ha concesso alcune dichiarazioni all'amico e giornalista Omo Akatugba. Queste le sue parole, sono al top della mia forma, ho nuovi obiettivi. Per arrivare dove sono ho superato un sacco di ostacoli. La gente dice che non durerò, ma lo dicevano anche quando fui scartato da due squadre in Belgio. Non ce la farai mai mi dicevano e mi paragonavano a giocatori del passato. Nel calcio è normale. Io però non li ho mai pensati. Sto giocando in uno dei più grandi club europei e in uno dei migliori campionati d'Europa. Sono stato nominato giovane calciatore dell'anno e sto raggiungendo tanti traguardi personali. Non era facile, considerato l'infortunio con cui ho rischiato la vita. Eppure sono tornato meglio di prima. Per questo dico grazie a Dio. Ho vinto contro chi non credeva in me. Il periodo difficile di Usimen Usimen si è aperto all'amico su questioni extracalcistiche, in passato. Ho affrontato un periodo difficile. Mi sono infortunato alla spalla, poi fui positivo al covid. Ero solo, con la famiglia lontana. Molti si lamentavano delle cose che scrivevo sui social o dei meme che posto. Non mi considererei dipendente dai social, ma ho anche deciso di dividere il calcio e la vita privata e personale, mi diverto a postare cose divertenti. Virgola.